Anche nella persecuzione i cristiani hanno sempre avuto davanti a loro l'esempio di Cristo che non si è sottratto alla morte. La loro sofferenza la riportano a Cristo, gliela offrono, sanno che la loro sofferenza non è inutile. Allora oggi vogliamo guardare al Signore che non solo offre e soffre, ma soprattutto ci presenta quello che sarà il traguardo della nostra vita dopo la sofferenza, dopo le persecuzioni, dopo aver testimoniato anche con una parola semplice il proprio essere cristiano, anche facendo una piccola preghiera, anche convertendoci magari all'ultimo momento. Sappiamo che saremo accolti. Sappiamo che il Signore non ci disprezza. E' morto per noi. Vuole che noi tutti siamo salvi. Come per la Santa di oggi abbiamo pregato, Signore, Tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta. Domandiamogli anche per noi questa grazia, questo dono e che la sua bontà possa salvarci già da oggi.